Nuova strage degli innocenti in Yemen. Secondo le notizie diffuse dai ribelli Uti, una delle due fazioni che stanno combattendo, gli aerei della coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito un campo pesfollati a circa 20 chilometri da Odeiyah, la più grande città portuale del paese sul Mar Rosso. Nell'attacco, secondo i ribelli, sono morti 22 bambini e 4 donne. Secondo altri testimoni oculari, 26 persone tra donne e bambini sarebbero state colpite mentre cercavano di salire su un autobus per tentare di scappare. Due settimane fa c'era stato un bombardamento nella provincia di Saada, nello Yemen settentrionale e nell'attacco era stato colpito uno scuolabus con decine di bambini. Anche in quel caso il bombardamento era stato compiuto dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita che appoggia il governo dell'ex presidente yemenita Abdel Rabbo Mansour Had.